Ma adesso intanto non partecipiamo al voto e vediamo come funzionerà il Nazareno in salsa grillina, chiamiamolo così. Potrebbe anche non raggiungere i risultati, dopodiché vedremo, non dico nulla. Dopodiché faremo le nostre valutazioni come centrodestra, perché credo che questo sia un vulnus istituzionale difficilmente accettabile. Però ripeto, alla politica si va con i valori, con le idee, con la forza, con la determinazione, ma soprattutto parlando alla gente. Noi abbiamo parlato in tutti questi giorni alla gente rispetto alla legge di stabilità, un marchettificio ignobile, noi abbiamo parlato alla gente stamattina spiegando che l'Italia è inesistente a livello internazionale e sulla sicurezza e stiamo vedendo come risponde Renzi, da bambino viziato, troppo abituato a gestire il potere. A noi questa politica non piace, proponiamo alla gente aria nuova e aria pulita.